buongiorno allora ieri sera mi dispiace non è andato in rete stavo dicendo in onda per le formazioni professionali non è andato in rete il video che avevo registrato per problemi tecnici purtroppo non girava non girava quindi in questi casi qua bisogna arrendersi alla tecnologia che è molto utile ma in certi momenti ti ti rema contro ecco ti devo conto e era un video nel quale tra l'altro alla fine registrato alle 7 alle 19 e 15 più o meno alla fine dicevo che il real madrid sarebbe passato avrebbe vinto contro il bar di monaco e devo dire che vedendo l'andamento la partita dice ecco adesso alla fine scopriranno una castroneria perché comunque avrei mandato vedrete dopo la partita e invece rosè lui mi ha salvato anche l'arbitro marciac diciamo mi ha salvato nel senso che effettivamente quel a me sembrava regolare la posizione insomma non c'è stato un bar ovviamente perché c'è stato il fischio immediato e quindi il bar non potrebbe intervenire posso dire che anche questa è una castroneria sinceramente sinceramente cioè mi sembra presa in giro cioè se l'arbitro istintivamente scappa di fischiare perché il guardadine gli alza la bandierina gli dice che c'è il fuorigioco non vedo perché il bar non possa intervenire veramente sono quelle cose sì so che hai ragione ma ormai non posso più fare niente oppure potresti avere ragione ma non posso più fare niente mi sembra una baccata gigantesca perché poi cos'è che conta alla fine l'essenza delle cose e l'essenza di una partita di calcio cos'è il risultato e se tu alla fine marciac si scusa il guardadine si scusa è scappato e ho fischiato e ho alzato la bandierina e ho capito è però non ho giocato i supplementari potevo andare in finale come baier monaco cioè cos'è che conta alla fine il fatto cioè la partita il risultato l'obiettivo una stagione chi vi dice poi magari vinceva lo stesso era madri nel supplementario i calci di rigore ma a questo punto si apriva la possibilità di farlo anche per un baia monaco alla fine la partita spettacolare perché passano in vantaggio subiscono due gol nel giro di 3 4 minuti e riescono a guantare la partita all'ottavo minuto di recupero e non è possibile che una regola messa lì e che ti dice che se l'abitro fischia il vanno un po' più intervenire non è possibile che una regola così mandi tutto a quel paese come se non fosse successo nulla poi è vero che si ha un po' la sensazione che al fisso di marciac la difesa della madri si sia anche fermata è possibile è possibile però è una cosa talmente immediata che secondo me insomma è facile ipotizzare che De Ligt quel tiro l'avrebbe fatto lo stesso e mi viene da pensare che De Ligt molto spesso anche soprattutto con la Juve era stato al centro di situazioni e sorrido ma non credo che rida al centro di situazioni assurde vi ricordate certi falli di mano che erano tutti gli schiavi quello a Lecce quando poi l'arbitro stesso ammise che o comunque Rocchi disse che non doveva essere rigore quello era il periodo che partiva una pallina da tennis e gli andava sul braccio a lui cioè se andava a vedere una partita di tennis gli arrivava la pallina sul braccio ecco era veramente un periodo sfigatissimo per lui però è stato anche colpevolizzato o meglio sanzionato e con lui tutta la Juve ingiustamente alcune volte ingiustamente poi ce ne avessero il suo mi viene in mente la finale di coppa italia quel fallo che fa in aria il calcio di rigore per l'inter con un giocatore che sta uscendo dall'area e lui lo butta giù da dietro cosa folle quindi diciamo che De Ligt volente o dolente è sempre stato dentro determinate situazioni però insomma io mi metto nei panni anche questo cavale parla di Juve se questo è successo la Juve ieri una roba del genere di subire una cosa di questo genere io penso che sareste molto 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 incazzati poi i maliziosi diranno che la Juve sarebbe stata al posto del Real Madrid e sarebbe stata aiutata perché c'è ancora qualcuno che dice che quest'anno la Juve è stata aiutata dagli arbitri sì c'è un pazzo che dice un passo tanti passi che dicono che quest'anno la Juve è stata aiutata e attenzione aiutata dagli arbitri aiutata da poi io me ne ricordo una clamorosa col Bologna sì col Bologna il fallo da rigore però c'era un rigore su chiesa clamoroso nel primo tempo ma comunque quello ci si dimentica di quelli che si dimentica sempre vabbè adesso scusatemi ho fatto questa digressione ma è un fatto di attualità quello appunto di Real Madrid vai a Monaco va da sé che a questo punto il favore del pronostico vanno tutti nei confronti del Real Madrid e della possibilità di vincere se non sbaglio la quindicesima Champions insomma Ancelotti ci dimostra un bravissimo gestore un bravissimo gestore perché io ho l'impressione che era al Madrid giochi un po' come credono di voler fare loro ecco i giocatori lui è bravissimo a tenere lo sfogliatoio lì lo sfogliatoio lì nel video di ieri mi ero anche rioccupato della questione della curva relativamente al fatto che c'erano due aspetti importanti uno quello legato all'inasprimento addirittura raddoppio delle pene delle sentenze della questione della sbanner ma questa è una cosa che riguarda ovviamente personaggi singoli e in secondo luogo il discorso relativo al comportamento di alcuni calciatori io non so cosa sia successo eccetera ma è sicuramente una questione importante cioè se è vero che ci sono così come è scritto nel comunicato io prendo atto del comunicato se ci sono dei calciatori che hanno adottato dei comportamenti al di fuori dell'aspetto professionale quindi al di fuori del campo comportamenti comunque non consoni alla professione svolta specialmente in un momento in una stagione come questa qua nella quale si è andati poi a verso il declino alla posizione in classifica eccetera eccetera se tutto questo fosse vero non sarebbe una bella cosa ecco sicuramente non sarebbe una bella cosa non possiamo fare altro che prendere atto di questa situazione e quindi argomentare sul perché sul per come eccetera perché al per come ragazzi che tempi stiamo vivendo noi che tempi stiamo vivendo ditemelo se sono bei tempi quelli che stiamo vivendo o se sono tempi in cui i valori sono andati a come si suol dire no ecco è così e è un tempo di declino è un tempo di decadentismo di decadentismo per cui hai tutto sei forte sei ricco sei famoso eccetera ma chi se ne frega ripeto qui nessuno sta accusando niente in particolare perché non sappiamo nulla però se fosse vero sarebbe veramente no cioè ecco io credo che anche queste cose qua possano contribuire come dire a uccidere un po' la passione o comunque a farla ammalare no per cui dicevo senti io tutta la settimana studio coreografie cose eccetera i cori voglio fare un bello spettacolo voglio sostenere la squadra eccetera poi magari succedono situazioni esterne che ti fanno dire ma è che si può fare c'è a un certo punto chi me lo fa fare questo è in sostanza il significato di fare a torino perché c'è una questione territoriale da considerarlo quindi evidentemente a torino ci sono situazioni ambientali non consone non ritenute consone dagli esponenti della curva e quindi io spero la faccia mi sfogo in trasferta sperando anche che magari i comportamenti di cui si parlava prima vengano colti e ci si metta uno stop ok però ripeto qui prendo atto di un comunicato e la finisco fa iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera e perdonatemi ancora per il video di ieri